Ero già stata in Italia, ma mai a Venezia e sono molto emozionata nell'iniziare questa avventura. Mi sono riposata un paio di giorni dopo la fine della WNBA e ora sono pronta. Sono felice di essere qui, è un onore e ringrazio la società ed il coach per avermi portato qui. La partita con Schio è stata eccitante, ho notato subito che abbiamo un'ottima squadra e sono davvero carica di poter entrare a far parte di questa squadra. Le mie compagne credo che abbiano già costruito un ottimo gruppo in cui io dovrò solo inserirmi. Vincere è l'obiettivo di ogni atleta, ma da coach Hegler ho imparato ad affrontare un possesso alla volta. Bisogna provare a vincere le partite, non pensare alla serie o ai campionati, perché se ti concentri sulle partite non ti concentri su cose distanti. Sono ovviamente dispiaciuta di aver perso le finali, purtroppo ho avuto un piccolo infortunio nell'ultima parte di stagione regolare che mi ha condizionato ai play-off. Mi è dispiaciuto perché sapevo di poter dare di più, ma ho imparato che bisogna farsi trovare pronte nelle ultime due o tre settimane di stagione sul palcoscenico più grande.